Sta entrando Laura Green allo steccato esterno, partiti! Nelle fasi iniziali cercano di avvantaggiarsi Andreino, all'interno Lucky Fantasy, tra i cavalli anche Browside, all'argo di tutti Primordial Light che prova ad avvicinarsi, Cartoon viaggia all'estremo esterno anticipato da Gothic Dance, Val D'Antrullis e Cavenaco in seconda linea, Blue Feeling che rimonta per via interna, Laura Green e Voldemort che sono quelli che chiudono. Lucky Fantasy in vantaggio per corsie più interne in giubba giallo-rossa, in giubba Paglierino invece Andreino, all'argo si dispongono prima Cavenaco, poi Primordial Light, poi Gothic Dancing che è ancora più all'esterno, Cartoon. Val D'Antrullis con la giubba Cerchi, Azzurri e Blu prende spazio tra i cavalli, Browside invece per corsie più interne, si avvicina anche Laura Green, è passato Andreino su Val D'Antrullis che gli scatta lì dentro, poi Laura Green, Lucky Fantasy e Cavenaco, Val D'Antrullis che all'ultimo a farlo scappa via da Andreino, da tutto il resto della compagnia, Val D'Antrullis che viene a concludere nettamente, Andreino secondo, Laura Green terza, poi Cartoon e Lucky Fantasy. Grazie.